Buongiorno a tutti, oggi lezione di respirazione. Settimana scorsa abbiamo visto come respirare con il petto, con il torace e con il diaframma. Oggi impareremo il mio pranayama preferito, si chiama Ujjayi, la respirazione Ujjayi. Allora, come prima cosa, espiriamo profondamente, inspiriamo a mezzi polmoni, inspiro gonfio l'ombelico, inspiro ancora un pochino, gonfio fino a metà dei polmoni. Espirando chiudo leggermente la glottide e forzo l'uscita dell'aria e produco questo suono. Ricorda un pochino il rumore del mare. Fate queste visualizzazioni durante il pranayama, anche durante le meditazioni, vi possono aiutare tantissimo. Quindi si va a ispirare, tre secondi, espiro, per un minimo di sei secondi. Inspiro, tre secondi, espiro. Ora proviamo a inspirare, quattro secondi, espiro, otto secondi, e così via. E' una respirazione fantastica per calmare l'ansia e anche per chi soffre di insonnia. Quindi è una respirazione che potete fare tranquillamente alla sera prima di andare a dormire e mi raccomando, cosa fondamentale, seguite il suono della vostra ispirazione, che ricorda un pochino il suono dei mantra, quindi continuando, ripetitivo, 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 e quindi questo vi può donare molta calma e quiete mentale. Buona giornata.